Voglio parlare del libro I am Malala, che è una autobiografia di Malay Utsafai. Nel libro Malala conta la sua storia, cioè la storia di una chica che in Pakistan queria andare alla scuola e avere un'educazione. Ella conta il miedo che tenia per i salibani, che finalmente le dispararon un giorno quando volviera alla scuola. Mi ha gustado molto questo libro perché, anche se è qualcosa che ha passato nei nostri giorni, mi sembra molto molto vicino. E anche mi ha gustado molto il coraggio che aveva Malala e la sua voglia di andare alla scuola e apprendere, perché ella sabia che era qualcosa molto importante e questo è un diritto che che avevamo non valore. Per questo raccomando questo libro a tutti gli studenti per sapere che a volte non è facile andare alla scuola e apprendere. Grazie.